come diceva prima nella sua introduzione qui può avere contatto con il mondo esterno dove l'arduino serve per poter avere dei sensori nell'ambiente circostante avere degli attuatori sui quali compiere delle azioni l'ambiente è molto simile a quello di scratch che abbiamo visto prima in particolare nel codice che vedete alle spade serve semplicemente per accendere un letto cosa che fatta con il codice sarebbe molto più complesso in conclusione ho segnato alcuni punti con i quali volevo concludere abbiamo la possibilità quindi di fare, abbiamo la necessità di preparare i bambini e di affrontare la complessità con la quale si scontreranno i prossimi anni e in questo senso quindi il pensiero computazionale diventa qualcosa di estremamente importante scratch è un linguaggio di programmazione adatto all'implementazione di esercizi educativi abbiamo già degli esempi di successo come abbiamo detto nel caso di programma del futuro arduino aggiunta qualcosa di più perché consente di sperimentare in maniera più profonda l'artefatto attraverso i sensori agli autori che controllano l'ambiente circostante io ho terminato di ammettare in maniera più profonda l'ambiente circostante grazie a tutti